Mariela Nava, la musica commerciale, la musica di qualità. Che consiglio puoi dare ad un nuovo cantautore, ai nuovi cantautori che ora magari si appressano a scrivere la musica? Che non bisogna pensare, scegliere, doversi per forza classificare o identificare. Bisogna vibrare, emozionarsi, fare insomma quello che la musica ci chiede, cioè essere veramente liberi totalmente, quindi mettersi con uno strumento qualsiasi esso sia e lasciarsi liberare in un volo che poi probabilmente arriva a qualcun altro dall'altra parte e viene raccolto e si vola insieme, questa è la funzione della musica. Non la so etichettare, facile, difficile, triste, allegra, estiva, gioiosa, triste, tormentone, pop. Per me la musica è libera ed è anche varia. E invece i talent aiutano oppure possono anche distruggere? Come la vedi? I talent sono un passaggio di questo tempo, non soltanto nostro come fenomeno, insomma pare che sia stato scoperto addirittura in Inghilterra, dove la musica ha fatto anche tendenza nel mondo, quindi è strano. Il problema è le persone che sono dentro a scegliere cosa passa da là. E quindi si spera che i giurati convocati siano competenti, siano sempre più attenti e capiscano che il talento va accolto anche nella stranezza, lì dove magari non si direbbe, non sempre in un cliché preciso, televisivo, giovane per forza, insomma tutto può essere interessante. Una canzone alla quale tu sei legata particolarmente ogni volta che la canti ti emozioni? Ma ce ne sono tantissime, però sicuramente per amore, perché so che è stata la mia canzone che è andata più lontano. Oltre me anche, devo dire. Grazie. Un'ultima battuta. Su Palermo, la Sicilia, sei venuta molto spesso. Come la vivi il tuo essere qui? Per me la Sicilia ha un calore indescrivibile. Ogni volta che ho cantato e ho potuto cantare con il pubblico siciliano, ho avuto sempre un ritorno infinito. Quindi grazie. È un pubblico anche molto colto, molto attento, che sa, insomma, godere delle cose belle. Non gusta tutto quanto, ma sceglie. Mi sento un po' apparente, perché io sono pugliese, quindi ci sono delle radici comuni, soprattutto dalla parte del Salento. Quindi, insomma, ogni volta mi sembra quasi di stare in famiglia a cantare qui, di stare tra la mia gente.